Ciao a tutti e benvenuti nella Marvel WoW Oggi abbiamo i nuovissimi X-Men All New Allora, partiamo con questa recensione Finalmente abbiamo la cover A, non è la cover B, che è la cover B e Animal, no? Qua come possiamo vedere è la crossover anche dei Guardiari della Galassia Il processo a Jane Grey prima parte Per sentire tutte le altre cose, per tutta la spiegazione che ho fatto Potete cliccare all'episodio precedente che metterò in descrizione E vedete, non so Allora, qua il prezzo è 3,50 euro Che è Monomettafuoco questa macchina Allora, contiene i nuovissimi X-Men, vabbè Gli X-Men Fantasmi, X-Men Fantasmi, Legione Epitaphio Epitaphio, boh, non lo so Poi qua c'è sempre il Marvel Now Files Che in realtà hanno sbagliato ed è Marvel WoW Come la nostra saga E vabbè, qui spiega tutto Qua dice il prossimo fumetto di, no, l'All New numero 1 Dei Wolverine di X-Men, bellissimo Che avrò in seguito E qua, vabbè, dice il prossimo fumetto La terza parte del processo a Jane Grey E niente, per questo video è tutto E ci vediamo alla prossima Ciao